Prosegue la campagna di potenziamento della San Cataldese che ha tesserato il centrocampista messinese Nino Garofalo, classe 2001, ex Milazzo, ACR Messina e Nissa. Si alza il livello qualitativo della squadra guidata da Matteo Vullo, mentre cresce l'entusiasmo dei tifosi in vista del prossimo campionato di Serie D. Una quarta serie che per il blasone delle società partecipanti sembra più una Serie C2, quella che un tempo, dalla fine degli anni 70 al 2008, rappresentava l'ultimo gradino del professionismo del calcio. Prima dell'arrivo di Garofalo, ufficializzata la firma di Francesco Taormina, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Palermo nella scorsa stagione in forza all'Acragas. Nel girone della San Cataldese diverse le pretendenti alla vittoria finale, pronto ad assumere un ruolo di primo piano anche il nuovo Catania, rappresentando una piazza che punta senza mezzi termini alla Serie C.